Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale di Simone Workout, oggi intro un po' diversa perché sono con il pittofono, animi di UMS allo stand Olimp, pronti a registrare il video regalo, stavolta non un euro, ma ben 100 euro a più forte sul Fulgiball, quindi chi dà la cazzotta più forte vincerà a 100 euro e visto che parteciperanno anche le donne a loro le cadere con le poteine, facciamo un po' di gente pronta, siamo subito col primo concorrente, Samuel, chi è Samuel? Eccolo un po', dai, attenzione, eccolo qui, bello bello bello, 941, un corteccio e la madonna un applauso per favore, grazie, ovviamente, andiamo avanti con il prossimo che è Samu, ma tutti stessi non ce l'avete, Samu è il posto e Samu, dai, 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 attenzione, perché sale a maditta, sale, 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 ma niente, un ottimo fulgheggio, ma non basta, prossimo, Oreste, Oreste, vieni qui, ecco qua, è pronto, guardi, ho già mai visto che era un terzo contore a te, vai così, bam, subito, nemmeno vuole ragionare, e questo è un bel fulgheggio, attenzione, c'è la notte, scintissimo, 925, mamma, bravo, 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 ma non basta, pierdo un peco, oh, mi raccomando, non è più funzionato, taglia, taglia la notte, attenzione, qui secondo me potete fare di più se usavi tutta la forza del corpo, causato per il braccio, ma non, però bravo comunque, complimenti, Giacomo, mamma mia, qui ho paura, qui secondo me lo spatta, taglia, qui una bomba attirata assurda, mamma mia, vicinissimo, 938, il primo classificato è ancora Sauer, non mi ricordo più i nomi, che sta a 941, c'è lei Renzo, causato nero, questo pure è bello grosso, legato, bam, mamma mia, mamma mia, no, di pochissimo, Cristiano, dov'è Cristiano, taglia i grigli, mi raccomando, bam, attenzione, attenzione, 777, 777, ma non basta, attenzione, l'ultavo concorrente Marco, stiamo facendo prima tutti i maschi attaccati, poi tutte le bronzelle, Marco, dove stai, attenzione, eccolo, si aggiunge il tiro, e, e, oh, sta salendo, sta salendo, salendo, 877, non basta, non basta, siamo arrivati a Stefano, dai Esther, oh, non devi chiedere, non devi dire, morire, tu riesci a cazzare, aprile la porta, se ridimelo, va bene, ma, oh, poco, vinci, 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 avuto, ma, oh, bene, aiuto, c'è scritto tra parentesi, ah, aiuto, perché, ah, perché non dove ne raccolto, pensate come sto, quindi con la sinistra, con quella apposta, cioè, rispetto, allo, regà, col braccio sinistro, 874 col braccio sinistro, io, con il braccio sinistro, neanche, che sto prendendo una penna in mano, dove è Fabio, eccolo Fabio, ha più un po' più l'ongilineo, dell'altro ragazzo, lo vediamo pronto, non ha una stentro, l'ammalza, attenzione, sale, 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 ma credo che non basta, no, 8, 1, 2, complimenti a tutti i ragazzi, perché stanno andando veramente bene, e adesso abbiamo Pino, stanno tutti qua pronti, già sanno il loro numero, Pino, cosa ci dici Pino, non vuole parlare Pino, vuole solo un mena e basta, vai Pino, vai Pino, attenzione, 8, 4, 1, Sebastiano, aspetta, Sebastiano, Sebastiano, anche lui, molto muscoloso, quando vuoi partire, sbaccalo, sbaccalo, attenzione, perché c'è un nuovo decad, 9, 4, 6, per me, il primo classificato, che si potrà giudicare 100 euro in centoni d'oro, non è vero, 100 euro in contatto, davanti il prossimo Valerio, 14, 5 concorrenti, raga, c'è pure la voce, ma tutti i grossi, quando abbia scappato il mio EDS, attenzione, perché aveva buona professionalità, ma non ha saputo sfruttare bene la forza cinetica, Luca, vai Luca, oh, cazzato, è camistato, corretto, a caso, vai, oh, attenzione, attenzione, mantieni la mia trasp, 9, 7, 3, 4, dà lo stesso, perché c'è l'uomo, tanto in bella stretta, non mi è abbastato, va, proprio così, ma solo, raga, lui molto arrabbiato, 9, 0, 8, ma qua non era, ma non era partecipante, era un uomo che era molto arrabbiato, ha voluto dare un cazzo, ma mira, adesso darà una bomba che non spacca tutto, ma, mamma mia, mamma mia, e c'è un gruppo di accordo, io ho finito la voce per iscrivare, è un nuovo record, grandissimo, 3, 5, 1, ma qua se è il primo, Manuel, dai, sei uno dei pochi che può battere record, mamma mia, che bomba, mamma mia, vicinissimo, vicinissimo, Daniele, diciottesimo concorrente, eccolo, c'è la nera, così mi piace, BAM, così, 9, 21, 9, 21, peggio alto, molto alto, ma non basta, dai, uno dei pochi che non può passare, boh, attenzione, superiore, non si può, mi dicono dalla regia che adesso non si può, dopo, si può, pensavo, per un attimo ho detto, ma no, non, 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 di come ti chiamo? di Aroslav, di Aroslav, ma le abbiamo con me? ah, no, ma non parla di Aroslav, devi andare lì, lo devi rompere, questo qui, lo devi spaccare, mamma mia, regà, regà, questo l'ho avendo le nappe, regà, devi dire, dai, dai, devi dire, dai, 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 dagli, dagli, dagli forte, dagli forte, dagli forte, dagli forte, appena è nato, appena è nato lì, appena è nato lì, ah, 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 regà, non ha l'amena me, ha l'amena capone, è vincito in assoluto, è vinto, non cose che vinto, perché, ma, santi, quasi quasi, lui gli diamo una lira, tanto non capisce, Yur, molto bravo, adesso iniziamo con le benzene, donne venite qui, potete vincere le proteine, vince Gabriella per prima, eccola qui, Gabriella, mi raccomando, dai una stecca per rinompere, attenzione Gabriella, 487, 88, 488 per Gabriella, un applauso, Alessia, regà, ha vinto, oh, ragazzi, non ha vinto, guarda, mamma mia, hai fatto più di rame, 732, voglio un applauso, per la forza, la simpatia, e la bellezza, di questa ragazza, vai, andiamo avanti, Ambra, Am, quando vuole, vai, apre, vai, scordi, così, vai, 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 che comunque tanto, 529, non è vero, 400, non è vero, ormai da 30, dico un sacco di cose stupide, 497, c'hai l'emia, c'hai l'emia, cioè non c'hai l'emia, ah, ecco, questo, lo devi spaccare, è così, oh, mamma mia, 701 quasi record Valentina un po' piccolina Ma secondo me Troppo lontana 179 Peccato 96 Come ti chiami? Da sotto 164 Attenzione Devi dire il nome sul video Alice Meno di 90 Io non ci credo Pronostico 350 Vai 621 Devi battere 732 Giulia 487 Ma c'è una risa Mamma mia Non si credo più Non si credo più 612 Un applauso regalo Un applauso Presenta Vittoria Vittoria Attiva 455 Che è un buonissimo risultato E vissa E tanto non me la renda nessuno Ma è prima io ho detto A una ragazza 188 Devo premiare i vincitori qui Cinore maschio che guadagna 100 euro Che guadagna 100 euro Più Pre-workout Garoscan Lo detto bene mamma Eccoci qua Con il premio Che manco lo sapete Capisce tanto però io parlo Allora hai vinto 100 euro 100 euro E in più Prendi 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 Sono tua Sono tua E in più Il pre-workout Di Dragon Ball Complimenti Adesso andiamo alla donna Sono ancora più contento Adesso di dare il premio Winner Alessia Che ha fatto 732 Complimentissimi Del premio Veramente Brava 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 Quindi ragazzi Direi che per questo video è tutto 27500 30 Spero insomma che questo video vi sia piaciuto Se è così mi raccomando 30.000 like Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Incriviti Iscriviti Commentate e scrivendo Quali altri Se ci volete Bella raga Un saluto a tutti Salutate raga Vi vedete il video Dai raga Ma non basta